ammischi sto parlando come giosealta fini vi ricordate quando diceva queste robe qui allora ragazzi dove state ben ritrovati sul canale oggi facciamo due chiacchiere molto veloci molto tranquille anche perché oggi giorno di festa 25 aprile quindi avremo tutti modo oggi di riposare un po comunque quasi tutti dispiace per chi invece oggi dovrà comunque avere una quotidianità lavorativa quindi spero che queste brevi chiacchiere insieme ragionamenti sparsi quella possano un pochettino aiutarvi a smaltire quella che sarà la fatica di una giornata lavorativa in un giorno di festa abbiamo un'ufficialità abemus finaliste e quindi la coppa italia finalmente al tabellone completato all'olimpico di roma si sfideranno per la conquista della coppa atalanta e juventus atalanta che ha ribaltato il pronostico aveva perso anzi più che il pronostico il risultato dell'andata aveva perso appunto un a zero gol di rolando mandragora un gol olimpico di rolando mandragora dell'andata e ne viene fuori con un sonore rotondo 4 a 1 io non ho visto tutta la partita ho visto dei pezzettini di partita in diretta tra cui il gol della fiorentina ho visto proprio il momento in cui la fiorentina è andata a pareggiare di testa con martina squarta che era il giocatore subentrato soltanto perché milenkovic era stato espulso serviva a mettere un nuovo difensore al centro della difesa toglie belotti vincenzo italiano mette dentro appunto martina squarta che poi sul calcio piazzato andrà a riportare la fiorentina avanti gasperini fa dei cambi mette dentro un botto di attaccanti in un modo o nell'altro poi la riesce a sbloccare e portare a casa prima al 2 a 1 e poi nel giro di veramente pochi istanti due gol sul finale del tempo regolamentare che permette all'atalanta di passare il turno ribaltare il risultato e confermarsi squadra veramente molto in forma da una parte mancherà locatelli perché era diffidato e ha preso la munizione quindi squalificato squalificato esattamente come Gianluca Scamacca che in questo momento se vogliamo è davvero l'uomo in più di gasperini io credo che Scamacca e l'ho osservato bene perché ce l'ho al fantacalcio per tutta la prima parte di stagione abbia avuto dei problemi a inserirsi all'interno dell'atalanta abbia avuto dei problemi fisici comunque non era un giocatore considerato al 100% da gasperini e anche complice se vogliamo la la coppa d'africa di lukman l'assenza di lukman Scamacca ha iniziato a giocare ma non da subito perché comunque abbiamo visto che addirittura gasperini giocava con de chetelare miranciuk in attacco con combainers dietro le due punte quindi alla fine non è entrato immediatamente nelle gerarchie ma smaltiti questi problemi fisici Scamacca è entrato assolutamente in uno stato di grassia coronata poi veramente questa stagione dalla doppietta al liverpool ad anfield lì è stato il momento più alto di Scamacca momento più alto per il numero 90 che quest'estate vedremo comunque anche all'europeo insieme a rete ghi come centro dell'attacco dell'italia di spalletti però sicuramente per la juve è una buona notizia non avere Scamacca locatelli è un titolare della juve indubbiamente però l'impatto che ha Scamacca rispetto all'impatto che ha locatelli è decisamente differente ma locatelli secondo me è uno di quelli che non vedi quando che vedi quando non hai perché in campo spesso e volentieri non è un giocatore che ti ruba l'occhio anzi è un giocatore che si preoccupa prettamente della fase di non possesso della fase difensiva però questa juve che è una juve basata soltanto sulla volontà di fare densità di mettere tanti uomini di dietro di fare una sorta di blocco del gioco degli avversari giocatore come locatelli lo schermo davanti alla difesa diventa indispensabile vedremo che cosa farà allegri il 15 di maggio in finale di cup italia io ripeto secondo me potrebbe addirittura pensare di mettere danilo davanti alla difesa inserire un altro difensore nel terzetto lì dietro per avere veramente la possibilità di avere tanti tanti difensori o comunque giocatori con caratteristiche difensive io non credo che allegri schiererà riconosci caviglia poi magari mi sbaglierò e riuscirò a dire ok non l'avevo letto assolutamente così però mi sembra strano che allegri possa mettere titolare in una partita che vale davvero un trofeo un giocatore che non ha praticamente mai visto il campo se non in occasione magari anche di quella che è stata il derby d'italia dell'andata dove nicolosi caviglia comunque parte titolare proprio perché locatelli non stava bene ricorderete che aveva ricevuto mi pare una botta al costato una roba del genere comunque ha giocato anche con una protezione ma al di la supercoppa italiana inter perché prima in classifica in serie a juve atalanta perché sono le due finaliste e ora ne manca soltanto una una tra milan o bologna o roma bene o male dovrebbero essere queste tre quella che arriverà seconda in serie a quindi chi arriva davanti in serie a dopo l'inter che non sia la juventus e l'atalanta si qualifica per appunto la supercoppa dell'anno prossimo che sarà ancora una volta final four devo dire la verità immaginarmi juve milan inter e atalanta sarebbe veramente molto molto interessante perché sono tre squadre storiche più una squadra che negli ultimi anni veramente ha scritto pagine incredibili di calcio l'ultimo trofeo della juventus è arrivato proprio contro l'atalanta in una finale di coppa italia però quella volta si giocava reggio emilia ed era la juventus di pirlo gol di chiesa e kuluseski tra l'altro le coincidenze nelle coincidenze oggi il compleanno di kuluseski quindi quasi a voler rimarcare questa roba qua ed è assurdo pensare che anche quella stagione era quella che anticipava gli europei proprio dopo quella partita lì si andò a giocare l'europeo a recuperare l'europeo dell'anno prima non giocato a causa covid una bella coincidenza non so che altro dirvi io ripeto preferivo la fiorentina perché secondo me c'erano decisamente più possibilità di fare una partita sulla falsa riga di quello che sicuramente farà allegri perché poi bisogna ragionare su questi binari non come la faresti tu non come la farei io ma di quello che effettivamente poi sarà perché sarà allegri a far scendere in campo la squadra il 15 di maggio la fiorentina è sempre stata una squadra che negli ultimi anni quando incontrava la juve in un modo o nell'altro alla fine usciva sconfitta l'atalanta è molto più tosta l'atalanta è molto più cattiva le ultime tre sfide tra l'evento e l'atalanta sono finite tutte in pareggio mi pare perché abbiamo fatto due a due allo stadium poco tempo fa abbiamo fatto 0 a 0 a bergamo sempre in questa stagione l'anno scorso sempre allo stadium nel ritorno è finita 3 a 3 quindi sono partite strane partite in cui poi alla fine c'è un pareggio ma questa volta il pareggio non ci potrà essere l'evento e l'atalanta dovranno avere tutto l'interesse del mondo possibile per cercare di portare a casa un trofeo una competizione anche perché in questo momento gasperini sta cucinando una stagione dell'atalanta incredibile perché sono in finale di coppa italia e sono in semifinale di uefa mi pare abbiano preso il marsiglia dall'altra parte dovrebbe essere roma contro bayern l'everkusen vado a memoria però dovrebbe essere un tabellone dell'europa league di questo tipo qua interessante molto anche l'europa league quest'anno anche perché comunque proprio da lì poi è scaturita la qualificazione della quinta italiana alla champions league e se l'atalanta arriva a sesta e vince anche l'europa league sono addirittura 6 squadre italiane però in questo momento l'atalanta si sta mettendo nella condizione di potersi giocare due finali una l'ha già conquistata contro la juve l'altra invece se la deve ancora conquistare sono favoriti loro sono favoriti loro mi perdonerete ma sono favoriti loro non so se siete tutti d'accordo con me oppure no io credo di sì io credo che l'atalanta sia francamente la squadra favorita l'assenza di scamacca un pochettino mi tranquillizza ma non troppo perché non è un giocatore è il sistema atalanta che funziona e che fa paura fatemi sapere anche le vostre impressioni fatemi sapere se secondo voi il pronostico è a favore della juve o appunto dell'atalanta voglio leggere anche le vostre opinioni perché per me è banale scontato dire che appunto l'atalanta è favorita e da qui si apre una discussione incredibile anche filosofica che comunque ho affrontato in settimana prima con un articolo che ho scritto magari vi lascio il link qui sotto in descrizione anche nei commenti di una riflessione su chi vince effettivamente nel calcio scaturita proprio da una domanda fatta a gasperini dopo monza atalanta in seconda battuta a tutti in the box ne ho parlato proprio anche a tutti in the box è stata la mia ringa in questa settimana da una parte gasperini che non ha mai vinto un trofeo in carriera se non il viareggio nel 2003 con la juventus dall'altra parte allegri che di titoli ne ha vinti e vinti e vinti e vinti da una parte il pragmatismo di allegri dall'altra il lavoro quotidiano di gasperini da una parte l'atalanta che è una squadra che non è obbligata a vincere che in tutta la sua storia ha vinto una coppa italiana nel 62-63 più tante promozioni di serie inferiori dall'altra la squadra più titolata d'italia a livello nazionale è veramente uno scontro ideologico è veramente uno scontro tra due realtà completamente diverse è ancora uno scontro maggiore rispetto a quello che era stato gasperini pirlo il maestro eterno contro il maestro in erba no qua stiamo parlando di una bacheca piena di trofei per juventus allegri e una bacheca priva di trofei per gasperini atalanta eppure questa roba non conta niente non conta assolutamente nulla perché una partita secca sono 90 minuti perché loro sono una squadra tremibile e ripeto per me sono la squadra favorita per vincere questa coppa italia è veramente uno scontro filosofico di quelli importanti, di quelli pesanti che faranno discutere per forza di cose in assoluto sarà una bella partita? boh, non lo so sicuramente dal punto di vista dello spettacolo credo che la Juve sarà più invogliata a fare una partita di un certo tipo contro l'Atalanta piuttosto che contro la Fiorentina anche negli ultimi anni eccezione fatta per la partita di Bergamo dove facciamo 0-0 mi ricordo una Juve che scende sempre in campo con un po' di aggressività in più perché per fronteggiare l'Atalanta devi per forza di cose aumentare i giri del motore Allegri usa una definizione per le squadre solitamente in zona retrocessione è mettersi al loro livello ecco devi metterti sullo stesso piano fisico dell'Atalanta lo stesso tipo di atteggiamento aggressivo se tu aspetti l'Atalanta sei finito l'Atalanta è una squadra che ti viene a prendere ti pressa tutto campo uomo su uomo e se non metti in campo l'agonismo e l'aggressività se non vai a lottare su tutte le seconde palle difficilmente riuscirai a portare a casa questa Coppa Italia quindi almeno da quel punto di vista si presuppone che la Juve possa provare a fare una partita un pelino diversa quindi queste sono tutte le riflessioni a proposito di quella che sarà la finale di Coppa Italia l'unica occasione che abbiamo per vincere un trofeo negli ultimi tre anni paradossale invece pensare che l'Atalanta ha comunque due possibilità di portare a casa un trofeo una squadra che non ha mai vinto nulla negli ultimi 50 anni anche forse qualcosina di più contro una squadra invece la Juventus che non vince da tre anni e inizia a stare male perché sente il peso di un successo che non arriva proprio due realtà completamente differenti eppure mi viene a dire che in questa finale di Coppa Italia i favoriti non siamo assolutamente noi ciao ragazzi e forza Juventus grazie a tutti